I senatori bussano alla porta dell'aula del Parlamento. Continua infatti in Polonia il blocco dell'emiciclo da parte degli eletti di opposizione. Il gruppo di piattaforma civica aveva proposto di aggiornare i lavori parlamentari al 18 gennaio, il tempo di trovare una soluzione al conflitto, ma il partito al potere, diritto e giustizia, si è detto pronta ad accettare solo a condizione dello sgombero immediato dell'aula. Non dicono nulla di nuovo, ribatte il leader di piattaforma civica, vogliono solo che usciamo. Siamo pronti a discutere, ma non possono dirci che se ce ne andiamo il 34esimo incontro potrà tenersi, quando il 33esimo non è ancora finito. L'opposizione aveva occupato il Parlamento a metà dicembre, inizialmente per protestare contro il tentativo del governo di restringere l'accesso ai giornalisti. parlamentari poi e questa prima rivendicazione si era aggiunto il no a quello che hanno definito il voto illegale sulla legge di bilancio per il 2017.